Musica Ben ritrovati con l'informazione, apriamo il nostro giornale con la cronaca prevenzione rete sociale, intervento nelle situazioni di difficoltà, queste le linee guida e le parole chiave dell'attività dei servizi sociali. A Padova è un'attività rivolta ad una variegata utenza, dagli anziani alle famiglie ai minori, persone in situazioni di disagio, ma anche alla riorganizzazione interna con l'obiettivo di andare incontro in maniera più agile a quelle che sono le diverse esigenze delle persone. Recentemente, lo ricordiamo, l'amministrazione comunale di Padova ha investito 240 mila euro su fondi per la morosità negli alloggi pubblici per contenere il rischio di sfratti. È quanto dice oggi, presentandola alla stampa, l'assessora Nalin. Vediamo. Consapevoli dell'importanza della casa per le persone, noi quest'anno abbiamo recuperato 240 mila euro per sostenere le persone che hanno un debito, quindi hanno un'amorosità che può determinare uno sfratto. Questi soldi servono proprio per aiutare le persone a rientrare dal debito e quindi non trovarsi nella situazione di dover perdere la casa. Allo stesso tempo, sempre per prevenire invece la situazione di difficoltà e quindi la situazione di debito, l'accumularsi di un debito, abbiamo costruito una gara per un progetto di accompagnamento all'abitare. Ci saranno quindi degli operatori che affiancheranno le persone che sono più in difficoltà e che le aiuteranno a stare attenti a pagare entro le scadenze, a rispettare le regole, a imparare a rispettare le regole della convivenza e quindi le aiuteranno, è proprio un accompagnamento a prendersi cura della propria casa, a prendersi cura della casa e per non perderla. Questo è l'obiettivo principale. Insieme ai 28 comuni dell'Exul 16, noi stiamo scrivendo un piano per la povertà. Le risorse arrivano dallo Stato e noi stiamo costruendo un progetto per utilizzarle al meglio. I temi riguarderanno sicuramente il sostegno all'occupazione, riguarderanno sicuramente anche qui un sostegno all'abitare e si concentreranno anche sulle povertà educative, quindi un sostegno alla genitorialità. Veniamo alla cronaca. Poco dopo le 12.30 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in via dell'artigianato a Schio per lo scontro tra due auto che ha causato tre feriti. I pompieri accorsi dal locale di staccamento hanno messo in sicurezza i mezzi e quindi estratto una donna rimasta incastrata in una Ford Fiesta finita contro il guardrail. Ferito anche un passeggero. Il conducente dell'altra auto, una Maserati, è riuscito a venire fuori da solo dall'auto. Tutti e tre i feriti sono stati poi assistiti dal personale del SUEM 118 e trasportati all'ospedale di Sant'Orso. La polizia locale ha eseguito i rilievi per la ricostruzione della dinamica dell'incidente. E' notte di Santo Stefano da dimenticare per un giovane protagonista del salvataggio complicato dalle temperature gelide costretto al ricovero all'ospedale. A lanciare l'allarme chiamando la centrale dei carabinieri è stato un passante che ieri sera ha notato un ragazzo a naspare nelle gelide acque del canale Bandura in centro a Campo San Piero. Nel corso d'acqua che costeggia la regionale 307 all'altezza dell'hotel Ristorante Altezzon, un ventottenne rumeno rischiava di annegare dopo aver perso l'equilibrio e finendo appunto nel canale. A salvarlo sono stati due militari intervenuti mentre il collega allertava i sanitari, l'altro senza esitare si è tuffato nelle acque gelide, non in pericolo di vita ma un principio di ipotermia. Il rumeno è stato poi ricoverato per accertamente provarti, ma soddisfatti i due carabinieri si cerca ora di capire come il giovane sia finito appunto nel canale. Un intervento insolito invece per il soccorso alpino e sperologico, quello inconcluso appunto all'Ungis di Socchieve in provincia di Udine, che rivela l'essenzialità della presenza capillare dei suoi tecnici volontari sul territorio, soprattutto quello montano, per sopperire alle necessità legate alla salute dei suoi abitanti. La richiesta d'aiuto è pervenuta in stazione intorno alle 13 di oggi da parte della protezione civile. C'era la necessità di provvedere al trasporto di una persona gravemente malata e particolarmente pesante che doveva essere trasferita all'ospedale di Tolmezzo, poi calandola a forza di braccia lungo diversi gradini esterni fino all'automezzo. Poco prima delle 11 e 15 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti anche in Viale Trento in centro a Vicenza per uno scontro frontale accaduto tra due auto che ha causato due feriti. La squadra dei pompieri a corsa dalla centrale ha messo in sicurezza i mezzi e poi collaborato con il personale del Suem 118 nel soccorrere i due autisti presi in cura dal personale per poi essere trasportati all'ospedale. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro per costruire la dinamica dell'incidente. Si sono concluse intorno alle 2 di questa mattina le operazioni di recupero da parte del soccorso alpino e spirologico di tre escursionisti di Ponte di Piave in provincia di Treviso bloccati in comune di Erto e Casso nella zona sottostante il sentiero Donè. La prima segnalazione era arrivata in stazione intorno alle 19 di ieri quando alcuni forestali avevano avvistato delle luci in movimento nel canale nello stesso punto nei quali 10 giorni fa erano stati ritrovati bloccati due border colli salvati dal soccorso alpino. La richiesta ufficiale alla stazione Valcellina del soccorso alpino alla centrale operativa della Sores è arrivata intorno alle 21. Inizialmente si è pensato di procedere al soccorso in due modi sia contattando l'elicottero dell'esercito dell'Avis Rigel di Casarsa abilitato proprio al volo notturno anche attraverso il centro di coordinamento di poggio renatico sia le squadre di terra con la barella portantina. Si è poi optato, considerato la zona e i rischi oggettivi di procedere senza l'elicottero che era pronto a decollare in qualunque momento. Una squadra di soccoritori composta da 7 tecnici del CNAS e due SAF dei Vigili del Fuoco si è recata a piedi da Casso verso il sentiero Donè e in circa un'ora di cammino ha raggiunto i tre escursionisti un maschio del 1990 e ancora un altro maschio del 1995 e una donna del 1995, sempre di Ponte di Piave. Parliamo di influenza. La settimana che ha preceduto le festività natalizie l'influenza stagionale in Veneto ha messo a letto circa 9 mila persone portando a circa 39 mila il totale dell'inizio della sorveglianza partita dal 15 ottobre scorso. Il tasso di incidenza regionale ha raggiunto l'1,85 per mille abitanti meno della metà del tasso nazionale già salito invece a 3,42 per mille. L'influenza in Veneto è quindi in ritardo rispetto al resto d'Italia il che spinge gli esperti a ipotizzare che il picco possa spostarsi in avanti magari nel mese di febbraio. Lo si evince nel secondo rapporto della Direzione Prevenzione dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto che ha elaborato i dati dei 116 medici di medicina generale osservando i tassi di incidenza per le varie classi di età per la fascia dei bambini da 0 a 4 anni il tasso di notifica è in continua crescita arrivando a 1,99 bambini per ogni mille mentre ricordiamo che in Italia si è attestata all'8,70 per mille per i bambini. La classe di età centrale che attualmente in Veneto è quella di incidenza maggiore sta registrando un aumento graduale con un valore complessivo per l'ultima settimana di 2,43 casi ogni mille a livello nazionale siamo già a 3,42. La fascia degli anziani, cioè quelli con età maggiore e 65 anni, registra valori ancora molto bassi con un tasso di incidenza di 1,12 per mille abitanti il livello nazionale è invece attestato a 1,92 per mille abitanti. Per ogni classe il tasso regionale risulta quindi marcatamente inferiore a quello nazionale al momento non è stato registrato nessun caso grave con complicanze. Bene, è tutto per questa nostra edizione del giornale come sempre vi diamo appuntamento alle prossime edizioni grazie per averci seguito e come sempre una buona visione dei nostri programmi. Grazie a tutti.